Ciao ragazzi, eccomi oggi con un video anteprima di Campagna 2 vi vorrei far vedere le anteprime perché ci sono delle cose veramente molto belle e come potete vedere già qui in copertina ci saranno dei nuovi rossetti allora, questo è il catalogo e ora passiamo alle anteprime come primissima cosa ci saranno questi rossetti in 20 nuances, come potete vedere sono una filza, cioè così che vanno da nude ai rosa, ai fucsia, ai rosso, ai viola, bordeaux, c'è di tutto, fino al marrone è una scelta veramente vasta il packaging è cambiato, è nero ma molto sottile allora, la formula è in gel impalpabile per una sensazione di morbidezza e una texture cremosa poi è molto idratante, questo rossetto c'è scritto e poi il colore è pure fedele sì, comunque idratante e texture morbida questi rossetti devono essere buoni soprattutto mi piacciono le colorazioni allora, il prezzo lancio di questi rossetti sarà di 5,95 euro vi rifaccio vedere i colori, vi giro così li vedete doppi perché di qua ci sono i codici dei campioncini da ordinare infatti ordinerò tutti tutti i campioncini per vederli e forse un rossetto in anteprima lo prenderò subito e sceglierò un colore a caso cioè a caso quello che mi ispira di più senza poterlo provare ovviamente queste sono le tonalità e quindi una novità incredibile perché sapete i rossetti sono sempre apprezzati qui ti dice che ordinando un rossetto del colore nuovo sempre vivo indulgence si chiama più un altro prodotto da pagina 619 del catalogo potrei avere un ulteriore sconto su questo portagioia volgibile quindi lo pagherai solo 3,95 euro con questa offerta e così e poi dopo qui ci si mettono gli orecchini braccialetti, anelli qui il make up molto carino poi big darling mascara nuova tonalità la blasket black volumizzante e formula rinforzante e niente comunque prezzo lancio 7,90 euro poi novità il correttore in crema ideal flawless anche questo mi ispira e c'è intertonalità fair, medium e dark prezzo lancio 4,95 poi color trend della color trend usciranno degli emollienti labbra con profumazioni fortate prezzo lancio di 1,95 euro 5,95 euro c'è l'arancia raspberry strawberry vabbè fragola arancia e questo sarà lampone non lo so molto carini poi il bagno schiuma edizione speciale questo qui molto bella la confezione ed è una profumazione fiorita 6,95 euro da 400 ml poi troviamo nuove colorazioni del fondotinta color trend finitura leggera però formula ricca di vitamine queste sono le tre colorazioni e il prezzo sarà di 3,95 euro poi accessorio per i piedi 3 in 1 della footworks euro 4,95 poi delle new c'è un sistema multifunzione per i contornocchi new ultimate questo qui ve lo faccio vedere bene ok questo costerà 19,50 euro dice di applicare la sera dopo aver steso una crema sulle rughe insomma sulle zampe di gallina e questa parte gialla al mattino e la sera è invece questa poi se ordinerai un sistema multifunzione il contornocchi new ultimate potrai avere un mini kit delle new a soli 5,35 euro dei nuovi prodotti new che sono usciti il programma multifunzione 14 giorni di ottima offerta poi qui troviamo l'edizione speciale l'azione corpo crema idratante mani emolliente labbra con vitamina E e gelsomino allora la lozione corpo 3,95 euro la crema per le mani 1,95 euro e l'emolliente 2,95 euro molto carino il packaging ok per quanto riguarda l'uomo uscirà un nuovo profumo che si chiama black sweet sport euro offerta lancio 13,95 in abbinato c'è il detergente corpo e capelli e il deodorante a sfera allora il detergente 3,95 e il deodorante 2,95 questo qui succosi agrumi trattufo e labdano poi qui il TTA today per lei il gel da bagno doccia effetto pelle luminosa questo qui anche da viaggio direi che sia comodo a 3,95 euro profumo fiorito morbidente idratante questa cosa mi interessa molto ho usato un po' dalla pagina del catalogo mi sembra che sia veramente ottimo ed è il nuovo faraway bella sunset sempre floreale come sapete fiori etere e legni evocativi molto carino il packaging prezzo 14,95 e poi troviamo in abbinato la crema per il corpo profumata e il formato da borsetta spray allora la crema 3,95 6,95 il formato da borsetta anche questo sarei tentata a provarlo bijou 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 collana fatta a chiave 8,95 questa qui 7,95 poi abbiamo questo in una scatola regalo signature 14,95 collane varie 14,95 l'una troviamo questi che è un set star con gli orecchini anche braccialetto e collana a 12,95 questi anelli veramente carinissimi euro 7,95 orecchini e collana d'anna 9,95 poi abbiamo questi floreali come sono usciti già un'altra volta set di due bracciali praticamente e ci sono tutti questi fiori bellissimi colorati si chiama bracciale olivia a 5,95 orologio 19,95 poi abbiamo questi che è tutto un set però separato la collana 12,95 l'anello 7,95 gli orecchini 8,95 quest'altro set veramente tenerissimo a euro 9,95 comprende gli orecchini abbinati alle collane poi abbiamo quest'altro qui questa collana l'izet 7,95 poi uscirà questa borsa si vede si c'è un po' di luce è rosa e costerà 19,95 in più se volete c'era l'organizer 8,95 la collana vuole uscire vabbè la sciarpa 9,95 troviamo anche questa necessaire da toilette fiorata 5,95 molto carina poi completino intimo abbinato al pigiama allora completino cioè 16,95 il reggiseno e 6,95 il sotto poi abbiamo il pigiama che costerà 18,95 uscirà questa tuta intera corta molto carina anche questa 16,95 poi una cintura per il fitness con la luce 10,95 poi abbiamo il reggiseno sportivo un po' leopardato il reggiseno 12,95 i pantaloni 16,95 e la t-shirt classica grigio così 12,95 poi abbiamo l'attrezzo tonificante per le braccia questo a 7,95 e poi qua c'è dei consigli per come utilizzarli con portacandele 4,95 il diffusore con i bastoncini a 6,95 poi abbiamo questo bellissimo portoggetti da bagno con canestro a 7,95 e niente questo è tutto quello che uscirà in campagna 2 spero che il video vi sia stato utile quando ordinerò in anteprima i campioncini vi mostrerò in un video tutti e tutti gli swatch così che potete farvi un'idea per se siete interessati ad acquistarli e niente ragazzi vi mando un bacione ci vediamo alla prossima ciao ciao